ho voluto riprendere questo marchio golden year ne sono rimasto piacevolmente colpito in italia pochissimo conosciute hanno un subwoofer amplificato al suo interno e che dire il progettista è quello di definitive technology il quale ha abbandonato il marchio definitive e ha aperto questo brand golden year amplificazione niagra 5.000 le promise to never leave us alone breaking like picking stars like apples from the sky threatening to throw them in the sea a